Ci sono Diego Sombrero e oggi siamo su Battlefield 4 Allora, ora noi dobbiamo andare su quella nave In fiamme, guido io? Oh ok Andiamo in quella nave in fiamme che praticamente Sì, ho un po' raffreddore Nell'altro video abbiamo visto Guardala, stavo per esserci segnato Oh che bello, posso metterla anche in questa persona Abbiamo freddo Cosa cerchiamo esattamente, agente? La Titan è una nave bella grande Chiediti e goditi il viaggio, ma mai le informazioni su Che bello guido io Sì, sì, siamo conoscete la nave e Praticamente è andata in fuoco perché i motivi sono ignoti ancora E' in turba Un delfino C'era un delfino Sì, non si vede nulla Non si vede nulla, non sarà palcato il gioco Vai di là, vai Va Un foro nella barca Ho già visto danni simili Missili antinave cinese Forza Riker, vai Ascoltate Ok Saltare, saltare Forza Perfetto Per meglio sbrigarsi Proviamoci, forza X sali Ok, veloce Allora Allora Andiamo Kovi Sai come uscire da qui se questo affare si ribalta Prima o poi scivolerà dalla scogliere Quando succederà Dovremmo essere lontani con il registro di Va bene, quindi Siamo flash Occhio a come ci muoviamo Siamo sul ponte C Diretti verso la centrale di controllo danni Portello G46 Da lì si arriva a un passaggio che porta fino in Allora dove si trova? A quella parte Avanti Ok Raggiungi la USS Titan Trovo il portello G46 Eccolo Tiriamo gravata? Ah no E' qui il portello Lo avevo visto Ti do una mano io Ok Oioi Arriviamo al ponte centrale e raggiungiamo il livello del mare ok? Tutti pronti Si ruota pure, bravi in che mondo vivi tu ah ok in che mondo viviamo che abbiamo le maschere che traspirano l'ossigeno dall'acqua che bello le armi ci si bagnano tutte le armi bagna l'arma sottra di controllo digitale si non mi va avanti sto qua vai avanti veloce ok battlefield 4 da migliorare dovrebbe essere qualità quando tipo si nuota perchè non si capisce dove vai cioè si capisce ma nuotare è un delirio in questo gioco è veramente un delirio centrale di controllo digitale vai aiuto vai veloce gira ok installazione completata fortnite allora è laggiù la vedo la vedo vamos entra nella porta gira eccola la cosa c'è x sali ci siamo bene 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 andiamo forte veloci ascoltato forse è solo un suono meccanico andiamo l'acqua sta salendo siamo tutti pronti e ok qui la colore è entrata forse c'è qualcuno intrappolato non puoi saperlo che cosa è successo alla ricerca di informazioni e superti non è nel momento del l'acqua no perchè non ho portato il fanguas cavolo tutto il ponte è allagato merda credo che l'acqua stia salendo troviamo un passaggio dobbiamo recuperare le informazioni prima che la nave offre fantastica si sta allagando bella devo andare là verso verso di là ecco un mh un mh qua giù qua giù l'acqua si sta alzando aiutateci questa è l'unica uscita tranquilli mi tireremo fuori non risposta come cazzo che sigillate aiutateci niente da fare andiamo via col cazzo non esiste che li mollo qui sai che anche con la fiamma ossidrita ci vorrebbe tutto quello che riusciremo a salvare sarebbero solo dei cadavere ce ne andiamo è un ordine hai sentito Harrison vaffanculo tenete dura sono dati no no dammi e dai irish calmati mi dispiace andiamo via via no bastardo questa me la paga è un po' tu recca dai andiamo non c'è da più di qui non voglio morire qui dentro chi è stato si hanno rinchiusi e lasciati qui non so perché prima coltiscono una data lunghissima e poi la porta eh ma qui è bloccato tutto non si era capito guarda comunque non si era capito vai veloce che affonda la nave l'hai trovato adesso ce ne andiamo da questo cazzo di rottame era ora torniamo alla balcina sento le lecce apriamo ma cos'è qua dentro usatevi tutti calmi voi calmi sangue freddo sono morto si muore e gli spara tutto poi con questo rompendo le dita ma di tanto di tanto bene andiamoci dentro poi io mi tiro una gravata a tutti si ripreso bello ripreso bello e 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 ok e ciò tu così a casa evitare una granata a tutti ok questo può andare abbastanza bene come arma ma apriamo questa cavolo di porta sì vabbè sì ho capito ma cosa siete per fare questo ok non facciamo nulla che è meglio si saltiamo la che è meglio ho capito cosa siete non posso servono armi e munizioni aeriche cadono granate ok ok affermativo flashback tiro granate a caso io che tiro granate a caso aia che male prendi vita uno di vita prendi vita 15 di vita ok mucciaccia sì quanti nemici sette di vita sei di vita ah vabbè io direi che questo episodio sia tutto e noi ci vediamo nel prossimo video lasciate un like per continuare la serie iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare aggiornati sulle ultime novità ciao ragazzi